Ciao Anagana e qui a Mescalbox per delle partite amichevoli ignoranti stasera con Phil volevo far vedere il nuovo gioiellino che abbiamo trovato qui quindi quale migliore occasione per sfoggiare il massimino contro Phil e ho tolto Asso di Quadri per provare Misugi Super Sub perché ho intenzione di provare uno schema un po' strano e niente con questa proviamo ad andare vediamo se Phil è arrivato, si Phil è arrivato con una 900 bello cattivissimo sempre Phil vediamo che accetta ok il massimino si scalda vediamo cosa ci sfoggia una 900 rossa mi pare che il suo socio Ale l'altra sera mi abbia fatto vedere che hanno preso Izawa se non sbaglio o mi ha tirato fuori qualche cosa di strano tipo una media non lo so non cazzo di particolare o una SS rossa o non saprei però secondo me una SS rossa con espadas perché lo sa che odio espadas vero Phil vediamo un po' vediamo un po' io ho messo Giton solo giusto per inneggiarlo ok solita formazione tutti latenti bella Phil vediamo Denimelo Gizawa papapapà che gliela do a Matsu vediamo cosa riesco a combinare non l'ho breccato non gli ho fatto niente però voglio vedere cosa combina il torrello vaporello ah gli ho saltato quello che volevo vabbè fa lo stesso ce la dovrebbe prendere con l'auto intercetto ah vabbè lo sapevo diciamo che la passiva di Zawa è abbastanza rotta vediamo l'intercetto così lui o ci dribbla o tira ma penso che Phil tiri perché Phil è così eh lo sapevo S40 perché ho messo il limite S50 ora voglio testare una cosa grande Danny grandi ragazzi ok la testiamo andiamo pugnazzi per Zio Alan spalla d'acciaio e lì zitto riparte il gorilla il gorilla eh ce la dovrebbe prendere no grande buono 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 io provo un dribbling e la tiro ma tanto non servirà un cazzo perché me la prende ok nita contrasto dribbling contrasto dribbling o tiro secondo me mi dribbla io vado di bellissimo contrasto vai gawa ballet urcu gli spacchiamo una gamba nita volevamo assassinarlo povero nita il massimino esulta per i gawa beppe beppe formazioni molto difensive entrambi aia 1 2 again qua questo mi sa di 1 2 again vediamo infatti ah no 1 2 inspegnante vabbè sempre 1 2 vediamo se adesso ce la spara dentro oppure ok tiro vediamo quanto c'ha allora se dovessi ripartire devo ripartire per forza su holly noi abbiamo detto al 22 super parata grintosa il palo ci attende il palo ci attende tra mille leggende e morri non ha paura grande alan così chiudigliela in bocca misako ole vediamo così 20k di intercetto vediamo dai e holly dai e così sparaglielo io vado di coppia d'oro vediamo è dura perché c'ha quel cavolo di misuji che di solito rompe meritamente le minchie però stavolta passiamo vediamo se passiamo ora perché lui ha la super solidarietà hyper power giapi andiamo e andiamo e andiamo bravissimo holly bravissimo e gliela diamo lì a mark e beh e così con nonchalance ce l'abbassiamo il massimino trema un rullo di tamburi tuono onda di raichu in the face dai ken facci vedere il gatto che in te non ho saguada dovrebbe avere saguada non mi ha dato un cavolo di boost mannaggia mannaggia con la maglia di babbo natale e io ho tirato al 46esimo s30 contro s50 sono andato un po' cattivo però ce l'appara lo stesso i boost fanno ok brand e fill partita è ostica come sempre è il massimino ora dobbiamo vedere cosa inventare allora lui secondo me va su con lì da quella parte io provo a fare questa cosa metto i blu centrali basso robi metto kazuo e non metto misuji alan 700 e ben giovane dai proviamo questo è secondo tempo si riaprono le porte al massimino dopo il tè caldo beppe bergomi e francesco caressa marco van basten e franco baresi sugli spalti a godersi la partita tribuna d'onore riparte che feel vediamo cosa fa cosa fa cosa fa io gli faccio un 1 2 mi sa che mi spara un 1 2 da qua purtroppo su mazzo non ho ancora messo il contraste quindi è abbastanza limitato ora come ora però no solo holly andiamo di nuovo così facciamogli sprecare il più possibile tecnicamente se gli faccio adesso dovrebbe fare l'1 2 ci mette troppo a caricare infatti quindi dobbiamo sperare inugito e mazzo che ritorni dietro andiamo comunque penso che con il break sistemato e le skill mazzo potrebbe essere molto efficiente in questa squadra così cioè lo potrei mettere anche nella SS tranquillamente ma allora direi un bel blocco un bel contrasto no però il contrasto è inutile direi un altro blocco e l'intercetto dai gawa fermalo tu ci passa ci passa anche il secondo però giusto spizza grande Danny grande Danny grande Danny e Danny sempre da dietro guardalo là lui lui mi può fottere tranquillamente però io ci provo lo stesso Benji avrà un S50 penso però proviamo a tirargli magari gli sbacchiamo tutte le manine perché tento di fare gol con Cazzo a dire la verità per quello che l'ho messo in campo devo mettergli in offensivo ok io vorrei ne saltato di nuovo Benji parecela dai su sappiamo che la pari dai su babbo natale Sergio bastiano rossi dai no con la super parata wow ero proprio storto ora li mando tutti avanti cazzo ho un dribbling però li ho messi in fuorigioco tecnicamente andiamo di contrasto perché tanto l'intercetto non ce l'abbiamo più però vabbè quello stesso ok lui passa Masao spizza dovremmo fermarlo con Akai ok buona andiamo così lui lui ho contrasto o tira cioè ho contrasto o dribbla o tira non penso che la vado a passare io vado di uberata poi vabbè mi daremo così dal blu nero della notte ok il pennacchio dell'arcobalera non ce la ferma lì andiamo a Roberto no ho sbagliato tutto nella vita dribbling è un bellissimo 1-2 proviamo con Robby andare avanti nooo ci ferma Izawa grande io faccio un blocco perché secondo me lui me la va no l'ho cannata pensavo che me la tirasse questa volta va va benji 22k in faccia tiro ex e comunque fa malissimo 21k 300 noi però abbiamo 18k e basta dai benji dai dai è ben giovane Sebastiano Sebastiano dai Sebastiano grande grande così Tsubasa andiamo di nuovo 1-2 studente insegnante ritroviamo la spizza cazzarola Akai Akai mannaggia a te meno male che c'è Masao contrasta secondo me grande la scimmia tirata fuori dal 2017 ancora si fa valere cazzo dai è così il problema è che non ho più cambi il ha è morto e farai così lui lo metto qua abbiamo detto ti dice sempre coso dovrei cercare di metciare in mezzo provo a fare questa mossa sottarne uno da una parte uno dall'altra no ce l'avevo una sostituzione cazzo aia yugone yugone lenderone ci vuole spazzare via malamente ok mi ho solo questo passaggio madonna proviamolo là dai durissimo però dobbiamo provare se non la provo adesso non la provo più dai danny fagliela passare al tuo idolo mark mark cavolo due auto intercetti che partono eh vabbè eh lo sappiamo izawa bella però questa intercettazione dai mazao grandissimo grandissimo buono due studente insegnante se riesco ad arrivare più o meno al limite dell'area dai dai roby cazzo roberto non va acai gli dice no con la maglia del giappone no dell'italia forse è questa quella tarocca non sponsorizzata secondo tempo supplementare cazzarola 0 0 dai ragazzi ok lui farà un passaggio c'è c'è tutti e due gli attaccanti liberi praticamente dai 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 tornate indietro mazzi mazzi matcha tu grande così vi voglio così intercetta blocco e intercetta ancora proviamolo dai ragazzi aia ci salta con due dribbini no la passa gliel'abbiamo letta qua però non ho il break e si sente grandissimo lenders contro gitone dai gito fagli vedere che tu gorilla delle sabbie fai ancora qualcosa ci credo in te gitonzolo fermalo lì fermalo lì cazzo fermalo vediamo se ci tira la minella gitone gitone vai vai così gitò spacca la gamba proviamo con i gemelli tecibana ma ci fermerà malamente bravo fil grande partita rigori vediamo di farne un po' poi al massimo se si tira lungo la stoppo e vi faccio vedere il finale dei rigori mentre minchia il primo tiratore è holly quindi sono proprio la frutta e vabbè anche il palo cazzo la coppa del nonno non vogliamo portarla a casa oggi lenderona destra-sinistra un perbaccicci cocco destra centrale da basterdissimo fil lenderone è anche dalla nostra li abbiamo qui e vabbè prima il palo adesso c'è la legge holly ci scambiamo i tiratori praticamente si scambiano le magliette e giocano uno per l'altro grande benji dai però siamo sotto cazzo cazzetto a sinistra subito andiamo andiamo così daghe là robertone aiaiai a sinistra di nuovo ah ce l'ha tirato dal centro dal centro cazzarola robertone anche della noz si è ricambiata la maglietta arturo brachetti destra così 60 stage porterà fortuna o no no babbo natale benji ci dice no ah 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 oi di qua eh l'abbiamo persa mi sa mancano due rigori ah c'è la bucata grande feel bella partita però non mi è dispiaciuta solo da cercare di mettere un po' meglio mazzo e per il resto secondo me ci può stare cioè per essere contro un 900k non si è comportata male visto che l'ho portata ai rigori quindi buona lasciamo le statistiche vediamo il massimino cosa ha procreato questa sera 53 ha avuto anche la dominazione più passaggio ho avuto un ottimo controllo a palla sono soddisfatto da mescalbox è tutto partite ignoranti